La leggenda della box mondiale Mohamed Ali raccontata in una mostra fotografica al Pan di Napoli. Cento scatti che raccontano l'atleta dai trionfi sul ring all'impegno sociale. Le foto sono state donate dagli archivi del New York Post, del Sigma e del The Life. Tre volte campione mondiale dei pesi massimi, è stato anche un grande esponente della lotta per i diritti civili dei neri americani. Un grande campione che a un certo punto della sua vita decise di lottare non più sul ring, ma tra la gente, contro le discriminazioni razziali e contro le barbarie della guerra. Scelte che gli costarono tantissimo in termini di fama e di denaro, ma che Mohamed Ali portò avanti con la grinta di sempre. A visitare l'installazione il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ancora una mostra stupenda nella nostra città, Mohamed Ali, un grandissimo, immenso re del mondo, campione di box, di pugilato, ma soprattutto e o anche, a seconda dei punti di vista, un maestro di vita, sempre in lotta per i diritti, per la giustizia, contro le guerre, contro il razzismo. Il suo messaggio direi contemporaneo, attualissimo. Il miglior pugile di tutti i tempi è tra i maggiori e più apprezzati atleti della storia, anche olimpica. Così l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele. Una storia, quella di Ali, una storia straordinaria. Siamo nel cuore delle contraddizioni del nostro tempo. Un uomo vero, un uomo che era esempio di bellezza e di forza e nello stesso tempo è anche una storia di fragilità.